Musica Perché camminare come coppia? Perché è una priorità! Eh sì, come si va a fare la spesa, si paga alle bollette, anche camminare insieme per noi è una priorità. Perché è un regalo! Eh sì, una volta al mese possiamo darci del tempo per noi, una giornata intera per riflettere. Musica È stato un percorso che ci ha aiutato a maturare e crescere come coppia, come coppia di fidanzati che è diventata famiglia. Inoltre ci ha permesso di aprirci con il dialogo verso altre coppie con già un'esperienza anche di matrimonio alle spalle. Musica Noi siamo sposati da un anno e frequentiamo il gruppo da trenti. È stato un percorso molto bello, molto gioioso, ci ha aiutato a conoscerci e a fare anche delle scelte consapevoli. E testimoniando il nostro amore, l'amore che ha Dio per noi. E ringraziamo! Questo cammino ci ha aiutato a riscoprirci e conoscerci come coppia e anche a comunicare meglio nelle situazioni più difficili. Ci ha insegnato ad aprirci in coppia e verso gli altri. Perché è utile camminare insieme. Perché poi siamo un gruppo e non siamo soli e le fatiche insieme pesano meno. Grazie. Grazie.